E ora a Foggia, dove il radicamento della criminalità riguarda anche l'occupazione abusiva di case popolari. 20 gli sgomberi effettuati da novembre, ma ci sono altri 200 immobili da liberare, dice il prefetto Maurizio Valiante. Michele Peragine. Era richiesto in maniera forte e prioritaria un intervento di ripristino di una legalità in un territorio che è martoriato e vessato da questa prepotenza e da questa cultura della barbarie con cui opera la criminalità organizzata in questo territorio. Un'attività coordinata dalla prefettura e condotta con un piano articolato che ha coinvolto insieme alle forze di polizia i commissari del comune, l'arca capitanata e la regione 20 gli alloggi di proprietà pubblica già sgomberati. Ne restano altri 200 immobili occupati da famiglie che non avevano diritto, di cui fanno parte persone legate a organizzazioni malavitose. Come in diverse città italiane, anche a Foggia, viene realizzata quella promessa della Premier Meloni, ripresa il 6 febbraio scorso durante la visita nel capoluogo Dauno, dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, per un forte contrasto alla criminalità attraverso la sottrazione degli alloggi occupati abusivamente. Sono state valutate numerosissime posizioni. Tra l'altro il nostro riferimento è stato anche il rapporto della Commissione Antimafia, che poi è stato uno degli elementi che ha consentito l'opportunità di prospettare questa proposta di scioglimento dell'amministrazione comunale. Occorreva far capire che qui si vuole affermare in maniera ferma e determinata la legalità e nello stesso tempo c'è anche una considerazione di una emergenza abitativa che affligge questa realtà territoriale e quindi dare la possibilità a chi ha bisogno e chi ha titolo di avere a disposizione un alloggio che paradossalmente era occupato da chi confliggeva con una situazione di legalità.